Nella giornata ieri due bambini sono stati portati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo per aver ingerito accidentalmente medicina e detersivo. I due casi simili per dinamica e gravità ma venuti in posti diversi della provincia di Teramo si sono quasi sovrapposti e per fortuna almeno al momento sembra che i bambini entrambi i due anni stiano bene e tenuti sotto stretta osservazione da parte del personale medico. Il primo caso è stato registrato nella frazione Teramana di Forcella dove il piccolo in questo caso ha ingerito un mix di pastiglie che ha trovato in casa sopra un mobile che il nonno utilizza per la sua terapia. Mentre il secondo caso è venuto a Tortoreto un altro bimbo di due anni ha invece ingoiato una pasticca di gandeggina di quelle utilizzate per fare il bucato nelle lavatrici. Bene fortunatamente i bambini risultano essere in buone condizioni. Abbiamo sentito stamattina il direttore della pediatria, il dottor Sisto, che ci conferma che le condizioni sono stabili e probabilmente in giornata o al massimo domani potrebbero anche essere dimessi. Quindi diciamo che non ci sono stati danni clinici evidenti per cui in questo caso la situazione si risolve con un grosso spavento e senza conseguenze cliniche. Certamente l'appello è sempre di fare attenzione per i bambini piccoli. le medicine il più lontano possibile perché anche per gesti di emulazione loro tendono ovviamente, vedono il parente, il nonno, il papà che prende le medicine e pensano ovviamente che anche loro possono, magari sono caramelle o cose diciamo a loro gradite ma in realtà poi possono provocare danni gravi. Per fortuna questa volta sembra che la situazione sia risolta. La cosa importante è che siete riusciti ad intervenire nell'immediato. Ma si guardi in realtà c'è stata solo un'osservazione clinica costante, un monitoraggio costante dei parametri clinici e vitali che per fortuna non hanno destato preoccupazioni.